La cintura di Orione Riserverò sempre uno spazio del mio cuore a quell'elegante schema di astri che mi ha fatto prematuramente pensare agli insondabili misteri dell'universo. Fu un pensiero fatale, destinato a far nascere in me una spiccata curiosità che troppo spesso si tramuta in eccessiva profondità. Ma non me ne dispiaccio. Anzi, ringrazio ancora il cielo stellato per aver dotato il mio volto di nuovi occhi attraverso cui poter meglio osservare la realtà che quotidianamente mi circonda. Pietra, albero, fiore. La meraviglia avvolgerò ogni cosa, come anche un indefinito alone di mistero. Persino il monte Circeo, che a lungo mi ha deliziato con i suoi vivaci colori, sembra assumere un aspetto del tutto nuovo. La sua sinuosa forma, immersa nello splendore notturno, riecheggia epoche remote, quando ancora la terra non conosceva vita, ed era caotico ammasso di polveri, gas e fuoco. E mi son via l'eterno, direbbe Leopardi, mentre io, cullato da questa visione e volgendo lo sguardo verso il cielo, penso tra me e me. Davvero, noi siamo polvere di stelle. Grazie a tutti.